Lo sai che in Minecraft è possibile andare sulla luna? E no, non parlo di mod Esistono vari modi per arrivare sulla luna Questo è un cannone di TNT Come potete vedere, attivandolo ci farà sparare in alto Ma ancora non come vogliamo Esiste infatti una versione ancora più avanzata di questo cannone Che come potete vedere farà espadre 100 TNT Tutte nello stesso momento Ma ancora non basta Possiamo provare con i comandi Infatti applicando l'effetto di jump boost Possiamo saltare oltre il limite normale del gioco Ad esempio questo è jump boost 10 Questo 50 E poi 100 Wow Ma ora il metodo definitivo per andare sulla luna Vi basterà costruire questo razzo Sì, avete capito bene Un razzo E senza usare mod Vi basterà infatti ferro, slime block, pistoni E poi per attivarlo piazzate un legno al di sotto Ora basterà solo aspettare qualche minuto E arriveremo fin sopra la luna Sì E tu E tu E tu E tu